Ciao amici, la squadra softbox è ripartita in quarta per la nuova stagione perché il 22 di settembre organizziamo un evento di bugilato a Ronago in via Asilo 1 dove i nostri agonisti saranno protagonisti di 10 grandi sfide. E' molto importante ringraziare i fratelli sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questo evento. Perciò ringrazio Armando Gomez, Pavi Dream 2000, Fabio Di Falco dell'impresa di gestatura, Carrozzeria Albiolese di Pino in Bugia, Marcello Ferrara del Delfino Blu di Lipomo, Serie stampa di Alessio Faenza, Michele Regina della Promo Edil, Luca Erba della Como Lake, Lugano Lake e Partners, Andrea Gardelli di Trasporti Sicuri per la vostra salute e studio terapeutico di Luigi Poletti di Sanfermo. Ragazzi vi aspettiamo numerosi perché è uno spettacolo assicurato. Grazie a tutti.